Vieni! Ciao! È l'unico esemplare esistente! Non è una meraviglia? Me lo merito un applauso! Sì, sei carino, ma ti devo dare una sistematina dolcezza. Dobbiamo decisamente far sparire quella coda. Che? Mamma mia, che alito! Sei uno che beve dai gabinetti, vero? Oh, continuamente. In effetti sono veramente ruzzo, credimi. Aspetta, sbaglio o stai perdendo i capelli? Sì, sì, esatto. Ma il balsamo lo metti mai? Grazie.